Stavolta la situazione è davvero grave, in questo video vi voglio parlare di quello che è successo, vi prego di guardarlo fino alla fine perché è importante, è il video più importante del mio canale, il problema è che stavolta non è un video importante nel senso di positivo ma è importante nel senso di negativo, quindi per favore guardatelo. Allora stamattina era a scuola, semplicemente, poi verso le due torno a casa, accendo il pc, apro youtube studio e mi trovo un avvertimento di copyright, anzi due avvertimenti di copyright in quanto uno già ce l'avevo per sempre lo stesso motivo ma ora vi spiego tutto. Cosa sono gli avvertimenti di copyright? Gli avvertimenti di copyright su youtube ti vengono dati quando te utilizzi e pubblicizzi, metti diciamo in pubblico, un contenuto che non è tuo, contenuto si intende musica, video intero, copertina eccetera eccetera eccetera. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che appunto uno youtuber americano con tantissimi più iscritti di me mi ha appunto segnalato, tolto cinque video e dato due avvertimenti di copyright per appunto il motivo che io avevo preso la copertina da lui senza dargli crediti o comunque non so se è per i crediti ma comunque la copertina era sua e io non avevo il diritto di utilizzarla. Questo youtuber diciamo ha ragione ovviamente ad aver fatto così però la situazione è questa ovvero che io attualmente ho due avvertimenti su tre. Cosa succede con due avvertimenti? Attualmente niente in realtà la situazione attualmente è come se non fosse cambiato cioè non è cambiato niente in realtà però cosa succede con tre avvertimenti? Se dovesse arrivare un terzo avvertimento? Io mi sto preoccupando che arrivi in quanto sono arrivati questi due avvertimenti in dieci giorni di distanza uno il 28 ottobre e uno il 3 novembre quindi se ne arriverà mai un terzo ma non credo arriverà vi spiego il perché dopo. Comunque se dovesse arrivare un terzo canale chiuso irreparabilmente ragazzi ho perso il canale quindi questa cosa ovviamente molto molto grave cioè non so cosa potrei fare. Vi chiedo di iscrivervi al mio secondo canale si chiama Nax ma se non lo trovate su youtube c'è il link nel primo commento cioè voi aprite i commenti e nel primo commento c'è il link per iscrivervi al mio secondo canale oppure anche in descrizione c'è il link insomma vi potete iscrivere tranquillamente. Anche sulla mia sezione canali c'è il canale ragazzi con la faccia di ciccio gamer ora non so se la modificherò ma comunque attualmente c'è la faccia di ciccio gamer e il canale si chiama Nax però vabbè a parte questo comunque quello che vi volevo dire è che io ho cancellato tutti quanti video in cui c'era la sua copertina appunto usata di questo youtuber oppure il video intero perché questo youtuber era quello da cui prendevo i video della reazione concept. Se vi ricordate i video della reazione concept sono video che io prendevo da questo youtuber cioè prendevo proprio il video intero da questo youtuber mettevo i crediti in descrizione e poi appunto facevo il video. Cos'è il problema? Qual è il problema? E quale non è il problema? Allora il problema è il fatto che questo youtuber ovviamente ha il diritto di togliermi i video però i video interi sulla reazione concept non me li ha tolti mi ha tolto solo i video dove utilizzavo le copertine che appunto erano sue. Questo cosa significa? Significa che probabilmente i video della reazione concept quelli che appunto caricava lui sul suo canale che poi io prendevo e mettevo i crediti in descrizione erano video non suoi cioè lui li ricaricava sul suo canale ma non erano suoi quindi anche quelli probabilmente ha rubato il coperto a qualcun altro o almeno non mi ha segnalato quei video non capisco il motivo mi ha segnalato solo le copertine. Solo 5 video ma di cui c'era solo la copertina sua non c'era il video intero però vabbè comunque questo è un mistero più che altro comunque una cosa da dire è il fatto che ovviamente i ragazzi hanno ragione a farlo ma io ovviamente avendo cancellato non ho messo privati ho proprio eliminato tutti quanti i video in cui c'era qualcosa di suo gli ho proprio eliminati i video da 10 15 17 mila visualizzazioni un sacco di guadagno un sacco di cose ma ho dovuto farlo perché per paura mia youtube non mi consigliava di farlo ma l'ho fatto io perché avevo paura e in quanto meglio perdere 10 video che il canale 300 video insomma penso di sì però vabbè questo è quanto un video così per avvertirvi voi iscrivetevi al mio secondo canale si chiama nax semmai stasera dato che sarò in live ne parleremo e comunque non credo arriveranno altre segnalazioni di copyright però di certo proverò a contattare questo youtuber anche se non so come fare c'è 500.000 iscritti c'è proprio la funzione su youtube di contattarlo cioè io posso contattarlo in quanto praticamente c'è proprio una sezione che ti dice cosa fare se ti arrivi un copyright ti dice contatta lo youtuber da qui c'è proprio un tasto per contattarlo quindi io ci proverò a contattarlo proverò a chiedere se mi toglie gli avvertimenti o comunque se non me li darà più insomma farò qualcosa però vi chiedo iscrivetevi al mio secondo canale link in descrizione si chiama nax vi ripeto e niente vi chiedo una cosa comunque importante voi cioè se voi foste youtuber diciamo attualmente come me no più o meno 6.000 iscritti così cosa fareste cioè nel senso con una situazione del genere avreste eliminato i video oppure avreste detto vabbè sti cavoli tanto non me ne darà più cioè secondo voi ho fatto bene eliminare i video vi chiedo questo ma sapete perché ve lo chiedo perché non lo so se servirà eliminarli non so se è troppo tardi io spero non sia troppo tardi ma voi li avreste eliminati i video comunque questa è la domanda e niente ci vediamo stasera in live alle 21 in cui parleremo di questa cosa ciao ciao